Oggi prepariamo del fritto, merlutto, melanzane, fiori di zucca, amido di riso, uova, pane grattugiato. C'è l'olio. Abbassare il po' la giara in salinata. Per i re, le nostre. Asseguiamo la linea. Due. Leggera infarinatura. L'ovo. Ce lo inseriamo, siamo a 175 gradi. Sono pronti anche i nostri bastoncini. Alla prossima ricetta. Un saluto dal canale Piccio di Pucca.